Domenica 25 giugno, ben ritrovati con il nostro quotidiano appuntamento con la Rassegna Stampa. Come sempre vedremo insieme i titoli nazionali e poi passeremo su quelli locali con le notizie che riguardano la Puglia e la Basilicata. Partiamo dalle notizie di respiro nazionale, lo facciamo con il Corriere della Sera e con la Repubblica. Il Corriere in primo piano ci riporta le ultime che provengono dalla Russia. La Russia sfida a Putin, poi i ribelli si ritirano, è il titolo di apertura del quotidiano. La Wagner, ovvero l'esercito di mercenari, appunto all'etico la Russia, arriva a 200 km da Mosca. La Russia è nel caos, Lukashenko media e poi Prigozin, il capo appunto della Brigata Wagner, dice andrò in Bielorussia. Ecco, vedete una fotonotizia sempre inerente a questa notizia. E poi in realtà tutta la prima pagina del Corriere della Sera è dedicato a questi argomenti. Tutti i misteri di un blitz lasciato a metà, il capo della milizia, ultimo azzardo del cuoco in mimetica e poi la controffensiva e Chievavanza. Le loro crepe sono evidenti. Per quanto riguarda invece le notizie interne, si parla di politica. Meloni si esprime sul caso Santanchè, riferirà in aula, dice la Premier, ma io sono tranquilla. La Ministra invece dice, ci metto la faccia, il partito non voleva. Andiamo ora sulla Repubblica, anche qui ritroviamo le notizie riguardanti la guerra russo-ucraina, in particolare quello che è accaduto in Russia nelle ultime ore, prove di golpe. Leggiamo come titolo di apertura e appunto con una fotografia sullo sfondo. Per un giorno la Russia sul baratro della guerra civile, la Wagner occupa Rostov e marcia su Mosca. Prigozin ordina la ritirata a soli 200 chilometri dalla capitale dopo la mediazione appunto di Lukashenko. E poi l'editoriale del direttore di Repubblica, la debolezza dello zar Putin, il populista della violenza. Ecco, anche qui troviamo un ampio approfondimento di quanto sta accadendo in Russia in queste ore. Una cavalcata senza ostacoli, partita dal Don. E poi ora Kiev spera nel disorientamento delle difese russe. Mentre dalla Nato Biden sospeso chiama gli alleati, tranne Giorgia Meloni e infine lo spettro di armi nucleari senza controllo. Dunque anche su Repubblica ha ampio spazio, ma si parla anche di sanità del corteo della CGL. 30.000 in piazza per difendere il diritto alla salute. Passiamo adesso sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, dove ritroviamo ancora in primo piano questa notizia. La marcia su Mosca con retromarcia. Il titolo scelto dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la brigata Wagner contro Putin, caos in Russia. Ma poi c'è la trattativa in extremis, con anche qui tantissimi approfondimenti riguardanti queste notizie. Ma si parla anche di notizie locali sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Bari, area da Gomorra, corteo funebre con inchino al carcere e decine di motociclisti contro mano con il fereto. Andiamo adesso nelle varie province pugliesi, lo facciamo ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno. Partiamo dalla provincia di Bari. Stessa spiaggia e stesso mare, ma prezzi diversi nei lidi del barese. A giugno ingresso ombrellone due lettini da 30 a 60 euro nei lidi della provincia, mentre a luglio ci sarà un incremento del 20%. Omicidio alle libertà, c'è un testimone nei video. Si vede un'altra persona, l'assassino confessa, mentre il GIP dice omicidio volontario, ma esclusi i futili motivi. E la premeditazione, parliamo dell'assassinio di Giovanni Colagliani, avvenuto proprio a Bari qualche giorno fa. La Gazzetta di Capitanata, adesso dunque andiamo in provincia di Foggia. Aeroporto boom di voli, a giugno numeri mai visti, 15 collegamenti a settimana, 6 al giorno invece nel weekend. Ancora la cronaca che viene da Foggia. Il bimbo caduto dal passeggino, l'autopsia conferma appunto la versione della caduta della madre del bambino. Mentre ancora Foggia, scarsa pressione ai piani alti. A QP il tubo deve saturarsi. Si torna a parlare appunto della condotta sostituita qualche giorno fa in città. Nella BAT adesso appunto le città di Barletta, Andrea e Trani ancora con la Gazzetta. Ancora una bomba, Andrea sotto scacco. Dunque la cronaca in primo piano. Ordigno, esploso un ordigno nella notte ai danni di un negozio di surgelati. E il sindaco dice non abbiamo paura. Taglio basso della Gazzetta della BAT. Ancora ad Andrea, estorsione ad un prete. Per questo è stato condannato un 22enne. Andiamo in Salento ora con la Gazzetta del Mezzogiorno. Le province di Lecce e di Brindisi adesso su questa prima pagina. Destinazione Sud Salento con i treni Lumaca. Più di 5 ore per andare e tornare da Gagliano. I turisti per questo li evitano. A Brindisi invece è Movida Molesta. Il sindaco in onore di inodore di diffida residenti del centro storico sono sul piede di guerra. Mentre una notizia di cronaca che giunge da Lecce. Il killer dei fidanzati rinuncia alla Cassazione e dunque diventa definitivo l'ergastolo per Antonio De Marco. In provincia di Taranto adesso ritroviamo la politica in primo piano sulla Gazzetta. PD più debole. Melucci premia i fedelissimi. La nuova giunta avvicina l'abbraccio tra il sindaco e Matteo Renzi. Vediamo proprio il sindaco Rinaldo Melucci in ritratto in questa fotografia. A proposito dei giochi del Mediterraneo del 2026 che ricordiamo si svolgeranno a Taranto mancano i 150 milioni. Servono le risorse a parlare Michele Emiliano. Oltre che il sindaco Rinaldo Melucci insieme hanno scritto al commissario ferrarese. E infine la cronaca. Droga portata in carcere con il drone e cinque arresti coinvolti due campani e ancora tre detenuti. Le notizie lucane adesso con la Gazzetta. Dunque Matera e Potenza. Si parla di trasporti. La verità sul Frecciarossa. Non si spengono le polemiche sul periodo di sperimentazione legato ai lavori sulla tratta ferrata. Dalla Puglia teme Emiliano, teme la sospensione del Taranto Milano che coinvolge appunto anche la regione Basilicata. Una tratta della Basilicata a Merra di Cerreste e Potenza Milano. Anche in Basilicata il servizio ha mercato. E poi a Matera è partito il conto alla rovescia per la festa della Bruna. È stato svelato il carro trionfale. Quest'anno è stato realizzato da quattro donne e si va appunto verso il tradizionale strazzo. Torniamo in Puglia. Lo facciamo con il Corriere del Mezzogiorno. Vediamo in primo piano stop ai cantieri per l'esodo estivo. L'ANAS annuncia nel periodo di maggior flusso di turisti. Saranno fermati i lavori. Ma andiamo nelle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. Leggiamo più nel dettaglio qualche notizia. Ecco, questa è quella che abbiamo ritrovato in apertura. Sulla strata alle 16. Code e disagi per i cantieri. L'ANAS stop ai lavori con l'esodo. L'arteria tra Bari e Lecce è interessata da interventi per la sicurezza. E gli operatori appunto dicono basta con il caos. Siamo a Bari. Degrado e Pontiglia arrugginiti. L'altra faccia di Torre Quetta nella stagione del rilancio. Pieno di rifiuti il campo di beach volley e i gestori denunciano. Qui c'è tanta gente. L'economia, in particolare il lavoro. La Puglia trai nel sud. Creati 100.000 posti. Aumento dell'8,6%. I dati sono emersi da uno studio dei consulenti del lavoro. E il trend dei primi tre mesi dell'anno rispetto al 2019. Andiamo adesso sulla Repubblica di Bari. Dunque ancora le notizie che riguardano la regione Puglia. L'evasione fiscale è una piaga. Il sistema Puglia va rilanciato. L'intervista è a Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia. Dopo l'allarme lanciato dai giovani colleghi a Roma, chi non paga le tasse, dice Fontana, è un delinquente, non un imprenditore. E nelle pagine interne, ecco, si parla di sanità, medicina d'urgenza, specializzandi in fuga, lasciano in 22 su 26. Nuovo bando a luglio. Il direttore del pronto soccorso del Policlinico dice altri ambiti sono molto più allettanti se consideriamo i maggiori introiti dell'attività privata. E poi, ecco qui, ritroviamo l'intervista al presidente Fontana. Leggiamo ancora qualche virgolettato. I numeri dicono che siamo la nona regione in Italia. Questa piaga dovrà essere debellata. Si parla evidentemente di evasione. Il nostro sistema dovrà accogliere tutte le opportunità, a cominciare da energia e porti. Andiamo ora sulla prima pagina del Sole 24 Ore, per chiudere questa nostra rassegna stampa. Sulle pensioni promesse per 10 miliardi, ma ce ne sono due. Riparte domani il confronto governo-sindacati con l'incognita delle risorse e in agenda c'è la proroga di quota 103 e il rilancio della previdenza integrativa. Infine, la fotonotizia sul Sole 24 Ore, anche qui dedicata appunto alla crisi russa, pregozi in ferma le truppe a 200 chilometri da Mosca e dalla guerra civile, ma è mistero sul presidente russo Vladimir Putin. Ebbene, noi chiudiamo qui questa nostra rassegna stampa. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.